Un Super Gauna consente al Capistrello di spugnare Franca Villa e battere il Villa 2015 per 0-1, riavvolgendo i nastri, solito 4-2-3-1 per Vitale con Dincecco, Barmone e Paravati alle spalle del figlio d'Arte Tacchi. Capistrello con Franchi vertice alto al sostegno di Di Girolamo e Gauna, i Granata portano fortissimo al settimo, Di Girolamo si presenta tu per tu con Gian Giacomo con l'ex spoltore che copre lo specchio all'attaccante Granata, poi al nono risponde il Villa, tiro di Di Giovanni che non trova i tiri giusti. Al quindicesimo, azione che cambia l'equilibrio del match, Gauna va in profondità e dà limite, incrocia con il Mancino e batte sul primo pallo Gian Giacomo per lo 0-1, un gol da numero 9 puro. La reazione Franca Villese si fa attendere al ventiduesimo, l'occasionissima è ancora per gli ospiti con il piazzato dalla sinistra, Gian Giacomo esce a vuoto con Fantauzzi che prima centra al palo e poi spara fuori a porta sguarnita. Dalla mezz'ora si fanno vedere i biancorossi, Dincecco si scatena sulla fascia sinistra, rientra e tira con il destro trovando la pronta risposta di Di Girolamo, Di Girolamo che allo scadere di frazione deve respingere anche l'ottima rasoiata di Barbone. Con le immagini di Simone Luciani nella ripresa per vedere la prima occasione bisogna attendere il ventiduesimo, cross dalla sinistra, Dincecco, deviazione in scivolata che non trova la porta. Ancora gli uomini di Vitale, Tacchi si distriga in contropiede, va da Paravati che rientra e serve al centro Liguori, tiro ribattuto in corner. Successivamente occasione per il capistrello, tiro da fuori di De Roccis risponde Gian Giacomo. Poi a cosianissima per Dincecco che sfrutta una incomprensione della retroguardia ospite si inserisce tra difensore e portiere ma non riesce a concludere in rete. La pronta risposta granata sui piedi di De Roccis che ancora si presenta tu per tu con Gian Giacomo ma è ancora provvidenziale l'estremo locale. Al quarantatresimo il Villa rimane in dieci per l'espulsione di Di Crescenzo e scendono i titoli di coda sul match dopo quattro minuti di recupero. Termina dunque così, altra bella prestazione per il Villa che resta a mani vuote, capistrello compatto ed efficace, Villa Capistrello 0-1. Un peccato perché anche oggi abbiamo fatto un'ottima prestazione, i ragazzi hanno dato tutto, abbiamo avuto diverse occasioni, peccato per il risultato. Noi siamo vivi e lo dimostriamo, lo dimostra il fatto che ogni squadra che viene qua addirittura si mette dietro perché ha paura di noi. I ragazzi stanno crescendo tantissimo, noi siamo vivi, abbiamo sempre quella luce che è sempre accesa e vogliamo a tutti i costi salvarci. Quindi siamo qui, ci proviamo fino all'ultima giornata. Qualcosa ci serve, stiamo valutando qualche profilo e speriamo che presto qualcosa arrivi. Grazie. Sì, tre punti importanti contro una squadra difficile, il campione d'eccellenza, la partita di oggi ha dimostrato il campione d'eccellenza quest'anno, non ci sono partite facili. Colgo l'occasione per fare i complimenti a loro perché ho trovato una squadra molto viva, piena di giovani che hanno dato l'anima e per questo è stata una partita molto difficile e una vittoria che vale doppio per noi. Vittoria che vi fa salire in classifica, vi allontanate ulteriormente dalla zona rossa, l'obiettivo ovviamente resta la salvezza, però potete fare, potete dare anche uno sguardo lì davanti. Ma io non ci voglio pensare, ogni volta che pensiamo a qualcosa di più arriva puntualmente alla sconfitta, quindi vi ho detto ai ragazzi pure in settimana, anche dopo la sconfitta con Lanciano, che non meritavamo secondo me, però ho detto che noi dobbiamo pensare soltanto e esclusivamente alla salvezza. Il nostro cammino è quello, raggiungiamo il primo possibile e poi dopo vedremo.